Ci sono stati gli Special Olympics, i giochi estivi, la squadra di Arezzo, la All Star ha vinto la medaglia d'oro. Puoi presti fare un saluto a questi ragazzi? Ma gli Special Olympics, l'All Star, tutte quante le stelle che sono riuscite a beccarsi delle medaglie d'oro, stelle dorate, ragazzi d'oro, sorrisi d'oro e soprattutto una grande passione per i genitori, per le associazioni, per tutti quanti quegli allenatori che stanno cercando di distillare un nuovo modo per essere vincenti, no no no, per divertirsi condividendo.